Ciao, sono un Mac. E io sono un PC. Oh, che fai? Un check-up? Ho l'aggiornamento a vista oggi, che è una gran cosa, ma divento un po' nervoso quando armeggiano con i miei componenti interni. Perché? Non è una cosa semplice? No, come molti altri PC, devo aggiornare scheda grafica e memoria e per il pacchetto premium mi serve un processore più veloce. Una grossa operazione. Questo mi dispiace. Ascolta, Mac, se non torno, voglio che tu abbia le mie periferiche. Oh, dai, che c'è, non... Oh, a proposito di periferiche... Oh, a proposito di periferiche...